Ciao ragazzi, io sono Pietro da Musical Box, oggi vi porto fuori, praticamente vi porto in casa un pochettino quello che è uno dei nostri migliori pezzi, Gibson appena arrivata, J45 fasce e fondo in mogano, manico 50, una riedizione 50 appunto, ve la faccio un po' sentire, è uno strumento impressionante. La cosa che balza subito all'orecchio di chi la suona è che è molto bilanciata, cioè tutte le note hanno la stessa importanza, hanno lo stesso volume, è una cosa che sotto le, non so se voi la potete sentire, ma sotto le dita si nota subito. Quando si va a fare degli arpeggi molto delicati, questa è una chitarra che restituisce una grandissima dinamica, basta sfiorarle le note rimangono lì, pazzesca, molto bella. Basta, J45, riedizione 50, le chitarre sono belle da guardare, suonare, ma anche da odorare, e questa profuma. Ciao.